E' stata grande la reazione di tutta la stampa Umbra per quello che è accaduto a Spoleto, e non solo la stampa Umbra. 17 avvisi di garanzia per la BPS sono davvero tanti e arrivano firmati dal sostituto procuratore del PM Federica Albano, che divide le situazioni in appropriazione indebita e in ostacolo all'autorità pubblica di vigilanza. Per l'appropriazione indebita penso che comprenderete quello che può significare per l'ostacolo all'autorità pubblica di vigilanza è l'aver nascosto le carte o aver operato in maniera particolare per mettere in difficoltà gli ispettori della Banca d'Italia. Per riuscire a comprendere la situazione, perché è una situazione estremamente complicata, quella della BPS, che vi ricordo è ancora la banca autonoma più grande della nostra regione, bisogna fare un salto indietro e ripartire da quel documento della Banca d'Italia con il direttore generale Fabrizio Saccomanni che chiedeva il cambio di vertice all'interno della BPS. Giovannino Antonini si doveva fare da parte, sostanzialmente diceva quel documento. Ora, non stiamo a spiegare i perché Giovannino Antonini si fosse dovuto fare da parte, secondo Banca Italia. Quando Banca Italia esprime una lettera di richiamo, non dà in pasto all'opinione pubblica i motivi che ci sono per quella decisione. Ma fu una decisione particolarmente controversa, perché qualcuno diceva che era un'ingerenza, altri dicevano e sostenevano che era il risultato, il frutto delle tante segnalazioni che arrivavano dal Consiglio di amministrazione della BPS su quelle che non erano cose chiare, chiarissime che la Presidenza Antonini stava portando avanti. Ci fu un'inchiesta giudiziaria ancora prima che vide coinvolta la BPS e poi ci fu l'interpellanza prima del PD sulla situazione della BPS e subito dopo l'ispezione dell'Istituto di Vigilanza di Banca Italia un'interpellanza da parte del PDL. 24 deputati con in testa Luciano Rossi che chiedevano spiegazioni. Ma chiedevano spiegazioni particolari, perché chiedevano a Tremonti perché si deve dimettere Giovannino Antonini e non questa situazione è relativa al direttore generale Pallini. La situazione è quanto mai confusa, difficile. Quando si parla di una banca dovrebbe esserci una trasparenza innegabile, innegabile perché sono risparmi, perché i soci affidano i risparmi alla banca, perché ci sono imprenditori che vanno a chiedere il prestito, così come le famiglie vanno a chiedere il prestito e alla trasparenza che danno in cambio dei soldi vogliono anche la trasparenza della banca. E adesso arrivano i 17 avvisi di garanzia per questa indagine. Un'indagine che è cominciata e un'indagine, come abbiamo detto, che ha fatto molto clamore. Tanto clamore che oggi su un quotidiano della nostra regione non c'è sulle prime pagine segno di quello che è accaduto. È il segno dei tempi, è una dimenticanza, una scelta editoriale? Stride, sapere che su uno dei principali quotidiani della nostra regione, in prima pagina, mentre tutti strombazzano ciò che è accaduto a Spoleto con le perquisizioni della Guardia di Finanza, quel giornale abbia deciso di dedicare la prima pagina a chi muore affogato nel lago. Scelte editoriali, vedete voi. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata.